In un nazionale l'emozione sui volti di queste giovanissime atlete in blu, in volley Piemonte, in bianco rosso, V7 Volley, tutto pronto per questa finalissima under 15 femminile, ecco i due arbitri. Fischio di inizio, va, la prima battuta flottata e si inizia subito con un ace, Precducai al servizio, va a flottare, ricezione sballatissima della numero 39, Krill, V7 Volley, ancora Cobba, ancora servizio, ottimo poi l'attacco di Vighetto che passa ma tocca l'asticella 25-19. Buona ricezione l'attacco affidato a Bellodi, out 25-14, il terzo set torna nelle mani dell'in volley Piemonte, che non chiude il colpo, attenzione, Cantoni va da buffone, niente da fare, si gioca ancora, allora l'attacco affidato a Cottone, palla, out! L'in volley Piemonte è campione d'Italia, under 15 femminile, si scatena la festa al Palau Reto di Palermo, tutti in piedi, in un lungo applauso per l'in volley, ma anche un lunghissimo applauso alle ragazze del V7. Adesso si scatena la festa in campo, tra pochissimo la premiazione che vi offriremo sempre in diretta. Adesso... Adesso... Grazie a tutti.